Ciao a tutti cacciotti e benvenuti in questo nuovissimo video della stone block 2 bentornati nella serie delle sette quest'oggi proveremo a risolvere il problema dell'energia mi avete lasciato diversi suggerimenti sotto i commenti vi ringrazio molto e penso aver trovato la soluzione ideale Allora tra l'altro ha a che fare anche con le quest quindi riprendiamo in mano un attimo il libro delle quest qui purtroppo Andare a carburante ci sta aiutando per sorreggere il peso diciamo D'elettricità del momento ma non è l'elettricità di energia Ma non è sufficiente anche perché prima o poi il carbone finirà quindi apriamo il nostro libretto e andiamo a vedere cosa possiamo fare intanto possiamo Prendere una ricompensa e lo faremo abbiamo ottenuto Cos'è sta roba barrel upgrade damion tear per farlo serve un diamante e tutto il resto quindi ti dirò Poteva andare peggio bello lo mettiamo da parte per il momento Allora quindi le ceste se sempre sarà un casino finché non iniziamo a fare una bella roba fatta come si deve ma per il momento Continuiamo con il libretto allora Dobbiamo scendere dobbiamo creare un crucible per andare avanti signore e signori per fare un crucible come si fa bisogno di cuocere un Crucible non cotto cioè Dovamo craftare una cosa con sette porcelain clay abbiamo bisogno di clay e buon meal Allora per fare la clay abbiamo bisogno di Terra se non sbaglio ora non vorrei sbagliare fare casini quindi andiamo a cercare Clay come crafto della clay blocco di clay si faceva dentro al cosettino questo qua no Porca vacca a che si faccia con la sabbia non mi pare proverò a mettere la terra qua dentro vediamo che succede Assolutamente nulla al anora la dust la dust mi sa mi so mi so ricordato ora Bisogna di un martellino però per fare la dust che dite dovremmo averlo da qualche parte un martellino inutilizzato Potremmo usare questo qui non so se funziona Beh si dai funziona quindi possiamo fare la dust e siamo tutti contenti Uno due e facciamo così non ci credo se è rotto davanti a me il coso ce n'è un altro che posso usare No devo craftarne un altro siamo seri dopo aver fatto tutti quei nuovi Cosi di diamante per fare quelle automatiche ok va bene abbiamo un hammer facciamo un altro pezzettino di dust Prendiamo anche un secchio perché dovrò rimettere l'acqua là dentro e vediamo come va a finire allora in teoria la dust ok Prendiamo un altro secchio d'acqua lo mettiamo qua dentro e abbiamo due pezzi di clay Ok li spacchiamo e prendiamo la clay normale ora ossa purtroppo io non ho ancora una farm di mop mi avete scritto nei commenti che dovrei Farla quindi a questo punto Sfruttiamo il bom meal che ho dalle mie esperienze in caverna Mi servono sette di questi Il resto li diamo da parte e creiamo un crucible così Lo mettiamo a cuocere dentro la fornace di redstone e dobbiamo ottenere il nostro crucible fatto e finito Allora a che cosa serve il crucible guarda qui allora following makes lava cobblestone granito diorite andesite cosa vuol dire che questi quattro blocchi elencati in giallo Creano la lava perché c'è utile questa cosa lo scopriamo proprio all'istante allora Dovrei spostare queste cose di là a dire il vero Perchè mi danno leggermente fastidio qui dove sono ce l'ho un'ascia da qualche parte dovrei averla io un'ascia da qualche parte Beh c'è questa qui ma se non sbaglio ecco ne avevo una anche di ferro Facciamo così spostiamo questa struttura E la spostiamo tutto dall'altra parte Perchè qui voglio concentrare un attimino sull'energia perlomeno ripeto finchè non creeremo Una delle stanze cioè per il momento è tutta questa stanza vabbè concettiamoci voglio l'energia voglio poter fare cose Allora piazziamo il crucible se io piazzo un crucible lo posso piazzare qui in alto e Ha bisogno di un qualche tipo di energia e Cioè di un carburante per far tipo smeltare le cose e poi tipo guarda ad esempio anche una torcia in teoria dovrebbe essere una Esatto rate 1 per prima era 0 per ora metto la torcia diventa 1 per 1 per cos'è è la Qua è la velocità con cui scioglie le cose ora se io prendo uno stack di cobblestone e ci metto dentro 4 pezzi di cobblestone massimo mi fa mettere Ora con un po' di tempo perché sotto c'è solamente sta roba che non è molto diciamo calda quindi come se mettessi una candela sotto una padella e cercassi di cuocere la pasta ci mettiamo un po' Quindi abbiamo bisogno di una fonte di calore maggiore ora col crucible se io scopo qua crucible E clicco utilizzi mi dovrebbe eccolo it's urs is Cosa possiamo noi mettere qua sotto Allora c'è la lava la lava già è un 3 per blazing queste cose non so come si possono ottenere Le torce tutto 1 per c'è la mega torch che ti dà un 10 per ok già faccero cazzo Che cazzo legno due diamanti blocchi d'oro perché mai Stops a stoppa lo spawn dei mob in un raggio di 64 blocchi Ma magari averla questa in minecraft ita Vabbè no però ci stiamo stiamo divagando Allora le torce non possiamo Un accendino cioè mettere il fuoco sotto 5 per Eh Eh Già questo non sarebbe male Il plutonium blocch è un 30 per ma non so Col plutonio il plutonio o il cyanite sai che forse questi ce li ho plutonio o cyanite Mmm non mi sembra mica Stavo sperando di avere una cosa del genere Ma a quanto pare no E continuiamo Ci sarà qualcosa che posso utilizzare anche perché mi avete detto voi che c'è una roba che si può fare Il blocco di uranio Mmm buonanotte l'uranio è anche un po' pericoloso così a caso Eeeh Super eating element Eh Già questo copper redstone Questo qua come si fa? Stilingot E glass Stil ce l'ho Os Arca vacca questo sicuramente sarà difficile Osmium Dove si trova? Però c'è anche sto coso Magari l'ho trovato già Vediamo Osmium Osmium ore Alla grande Quindi ce l'ho già qui anche Osmium Va bene allora prendiamo Un po' di copper Un po' di osmium Un po' di steel Dovrei averne? No? Porca vacca e lo steel come si fa? Ecco vedi che mancava qualcosa Che non lo sapevo Ok scherzavo a quanto pare c'è un modo per fare lo steel O con gli steel nugget ma sono complicati Perché non Cioè Meno che non ci sia un qualche tipo di modo per scavarlo O trovarlo Non si può Oppure Con questa cosa qui Stone hammer Ardened stone Come si fa sta roba? An ardened stone E' un po' un casino però si potrebbe fare E in questo modo Riusciremo ad avere un po' di Un po' di lava A cosa ci serve la lava? Bella domanda La lava ci serve per dare energia A un Magmatic Questo qui Magmatic Dynamo Che è abbastanza semplice da fare Dovremmo già avere tutte le cose necessarie E produce Una quantità di energia Che siamo lì se non sbaglio E quindi dovrebbe essere Forse forse un po' più di 60 Di 40 60 120 Insomma Non poco Non poco come queste qui che vanno a carburante Però la cosa comoda è che non hai più bisogno di dargli energia Tu Guarda già ora abbiamo finito l'energia Perché? Perché la lava ci da l'energia e possiamo produrne infinita perché abbiamo infinita cobblestone Quindi non è un problema Allora Io direi Proviamo a generare un po' di stroba Quindi Facciamo questo stone hammer È un po' complicato Ma Ehm Perché no Proviamoci Allora Stringhe dovrei averne un po' Per fortuna Sticchettini Non sono un problema Ne abbiamo infiniti Ci serve un po' di questa hardener stone Per fare l'hardener stone Ci sono altri No va per forza cotta E per craftare ho bisogno di Altra clay Sabbia E ferro Eh ce l'abbiamo Easy Allora Partiamo con calma Ho bisogno di un po' di dust Per fare della clay Dobbiamo raccogliere suddetta clay Avere un lingotto di ferro Perlomeno Quindi prendiamo un lingotto di ferro Ci serve un po' di sabbia Quindi facciamo Quanta sabbia ci serve? Bella domanda Due pezzettini di sabbia Facciamo così E Così Comunque è una comodità incredibile Lummer Perca vacca non pensavo Abbiamo la sabbia Cos'altro La cobblestone Dovremmo avere tutto Ti direi Dovremmo avere tutto Proviamo a craftarla Ok abbiamo quattro hardener stone Diamogli fuoco Nel senso Cuociamole Per ottenere Due hardener stone Con cui potremmo fare Il primo martello Ora Il crafting ce ne da quattro Quindi siamo contenti Però Ora c'è da capire Se questo Martellone È comodo O meno Nel senso Usage Voglio craftare questo Abbiamo uno di questi Perfetto Ora Per craftare lo steel Ricordiamoci com'è che si fa Ehm Vuoi uno steel C'è uno steel ingot normale Che non sia satanato Perfavore Steel ingot Grazie Come si crafta Molto easy Serve Del charcoal E per fortuna Perché il coal non ne abbiamo tantissimo E del ferro Va bene Allora Prendiamo un po' di ferro Prendiamo Non lo so Ehm Sei pezzi Facciamo tre crafting per il momento Charcoal Non ne abbiamo Ma non è un problema Perché come potrete capire Diciamo che l'energia Ci manca Ma Il legno no Quindi facciamo così Mettiamo un po' di questo Qua dentro No Non voglio prendere Metti dentro questo Ok E genera energia Grazie Anzi lo divido Lo metto anche di qua Così generiamo ancora più energia Merci Potrei separare un attimino questo Così Dov'è la mia branch Mannaggia Dov'è averla da qualche parte Eccola qua Crescent hammer Vediamo sto coso per il momento Così l'energia va direttamente qui E possiamo quasi tutte le cose con calma Tanto qui Finchè non abbiamo una buona fonte di energia Non andrà mai al massimo della sua potenzialità Ok Ottimo Ma qua Non voglia Vabbè Abbiamo già i primi sei pezzi Beh possiamo craftarlo direi Allora prendiamo il nostro crafting coso Facciamo così Facciamo così E abbiamo i nostri primi Ah che bello Avevamo i nostri primi due lingotti di acciaio E lo stone hammer non è neanche stato graffiato da questa roba Che è una cosa abbastanza positiva se chiedete a me Ora craftiamone anche altre due Perché non mi ricordo quanti in realtà me ne servissero di queste cose Se non sbaglio Quattro stilingot Se non ricordo male Quindi È stato positivo Averne fatte già di più Diciamo così Ok abbiamo quattro stilingot E a quanto pare il martello Sembra non Non crepare Che è una cosa positiva Ora come si chiamava quella roba Eating qualcosa Eccolo qua Super eating element Per farlo bisogno di Copper e redstone C'è redstone Ce l'abbiamo Perfetto Quattro e quattro Poi Steel casing Quattro pezzi di glass E un osmium Di lusso Proprio di lusso Quattro di questi Dovremmo essere in grado di fare questa cosa signore e signori Uno così E uno così Ora se io levo sta torcia e faccio così Rete 60 Ah Guarda quanto va veloce Di lusso Diamovi tutta la cobblestone che riusciamo a dargli Ora ne prende molto Ne prende Ne prende velocissima Il tank è già molto più pieno Se faccio così Ottengo la lava Di Lusso Porcaccia Va caccia Si Vai così Applausi per Surry Ora Craftiamo il magmatic coso Che ci serve Magma Ma Mortacci Magma Eccola Ci serve iron Un botto di Invar a quanto pare Mmm Interessante Ce l'abbiamo l'Invar Bella domanda Sembrerebbe di no Porca vacca Abbiamo un problema Come si fa l'Invar Magali è una lega Invar Abbiamo bisogno di un bel po' di Invar in realtà Invar ingot Per craftare un Invar ingot Invar blend Sono due pulverized iron E un di nickel Orca vacca Che c'era il nickel Io l'ho cotto tutto Non è vero ce l'abbiamo Stiamo calmi Stiamo calmi Pulverizziamo Un po' di ferro Allora Pulverizziamo un po' di ferro Leviamo da qui l'output verso destra Lo rimuoviamo proprio Così non abbiamo problemi Qui c'è altro charcoal Ma ti dirò Non ci interessa Mettiamo un po' di Tipo quattro di questi E dovrebbero darci Le nostre amichette Le nostre cose Ecco la pulverized iron Nickel Stessa roba Non ce ne servirà tantissimo Ma facciamolo E vediamo Quanto Invar riusciamo a fare Avrei bisogno di quattro Di sei pezzi Per lo meno Per fare ciò di cui ho bisogno Però un blend Mi da solamente uno Ok ho bisogno di un botto di roba In realtà qua Che se io faccio così Mi da due due Più No Devo anche cuocere questi Giustamente Cioè cuocere Pulverizzarli Ora capiamo un attimino Come si fa Magmatic Eccolo qui Ho bisogno di ferro normale Ce l'ho Rest on transmission Seve il silver E ce l'ho Per fare l'Invar gear Si ok Siamo quattro Di Invar ingot Quindi Invar blend Mi da uno Ok Ah però tre mi da di questi Ok no dobbiamo essere a cavallo Un botto di numeri Ma ce l'abbiamo fatta Facciamo così e così Questa è la whatsapp che vorrei salutare Abbiamo sei Sei bastano Sei sono ciò di cui ho bisogno Quindi cuociamo questi sei Iniziamo a craftare con un po' di silver Che dovrei avere Mamma mia Sempre Sempre un'incognita Con un po' di Invar No Silver Facciamo questo Il ferro Ce l'abbiamo Ci serve Lo stone gear Ce l'ho già Un altro pezzettino Di redstone Prendiamo L'Invar Facciamo Uno, due, tre, quattro Con dentro lo stone gear Serve solamente un altro lingotto Che è a nostra disposizione E a rigor di logica Dobbiamo poter craftare Il magmatic dinamo Che piazzerò Se provo a piazzarlo qui Riceve automaticamente Non riceve automaticamente proprio nulla Non riceve Quindi facciamo così E lo mettiamo Qui ad angolo Per il momento Proprio così Cattivissimo Lo collegheremo con Non lo so Penso Qualche tipo di pipe Ci deve essere qualcosa Che passa Che passa liquidi Per il momento Possiamo già fare Semplicemente così E come vedete Inizierà a generare energia Ah no Si parla comunque di 40 rf per tic Ok Si può Si può upgradeare Ma per il momento Non ci interessa Stiamo iniziando a generare Più energia Soprattutto Più costantemente E non abbiamo bisogno Di tutta Sta roba Di coal qui Anzi Levemo proprio il coal Che poi magari ci serve E non ce l'abbiamo Potrei metterci il charcoal In effetti Il charcoal ce l'abbiamo in quantità industriale Infatti mettiamoci il charcoal E come va va Ok Detto questo C'è una pipe Qualche tipo di Fluid Qualcosa Che posso mettere Quelli da build craft Ti giuro Proprio non li voglio usare Perché non mi piacciono proprio Riesco a fare magari un Conduit Conduit Magari non quello di trasporto la Ma quello per il fluido Serve Allora il conduit binder Dovrei essere in grado di farlo Si Ti direi di si Poi ho bisogno però Di fused glass E come cacchio si fa Il fused glass Me lo spieghi per favore Chi se lo ricorda Ah serve un alloy smelter Eh come si crafta l'alloy smelter Orca vacca Vedo sotto crafting Mi viene un colpo al cuore Cioè per fare l'alloy smelter Ho bisogno dell'alloy smelter Mi prendo in giro Cioè devo usare L'induction smelter Invece Che potenzialmente fa la stessa roba No? Spero Tipo per fare il quite clear glass Sto coso qua No solo nell'alloy smelter E' arrivato Mannaggia Allora Facciamo che per il momento Assecchiate va bene Che diciamo eh Deve costare ancora un botto di roba Per arrivare sta roba Comunque Oh Magari me lo da come ricompensa Invece no Conversion kit Che non ci interessa proprio niente Va bene ragazzi Io vi direi che per il momento è tutto Stiamo facendo progressi a livello di energia E niente Ci vediamo domani alle 7 E con il prossimo episodio della serie delle 7 La scritta un block 2 Iscriviti al canale se ancora non ti hai fatto C'è la sua campanina per non farvi nessun video Io vi saluto Ciao turuturututti